Buon pomeriggio amici, ben trovati. Siamo sempre in campagna e ammiriamo l'irrigazione a pioggia. E' sempre bello vedere l'irrigazione a pioggia di un campo di granoturto. E' sempre bello. Amici, girettino in campagna e anche oggi vediamo qualche impianto di pioggia. Amici, il nostro girettino in bicicletta oggi è un po' corto. Ma siamo un po' in ritardo e quindi con questi belli fiori qui che sono delle hortense io vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao, 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 ciao!